Con o senza non è la stessa cosa, inutile nascondersi dietro a un dito, manca quel fermento nei borghi e sestieri, il rullo di tamburi sono delle chiarine, i cavalieri in campo alla lizza, i 5 minuti di riscaldamento, il tifo dalle tribune, l'adrenalina che sale, il corteo maestoso e imponente, il pubblico delle grandi occasioni, Sulmona senza la giostra non è la stessa. Per questo l'associazione, in occasione delle giornate dedicate alla giostra cavalieresca di Sulmona, ha voluto ripresentare, come lo scorso anno, la proiezione di filmati e video sulla facciara di un palazzo posto nelle immediate vicinanze di Piazza Garibaldi, sede naturale delle gare di giostra. In questo modo si è cercato di far conoscere i turisti che in questi giorni affollano la città, fa rivivere le emozioni a tutto il popolo della giostra che purtroppo, come per lo scorso anno, non vedrà realizzato l'evento per i motivi già illustrati, rimarcano dalla giostra cavalieresca. Le proiezioni verranno effettuate dalle 21 alle 24, nelle giornate di oggi, del 30-31 luglio prima agosto. La speranza è di far rivivere quelle immagini nella realtà, perché due anni consecutivi di stop cominciano a farsi sentire. Grazie a tutti.